Peccato soltanto per il campo, reso quasi impraticabile dalla pioggia. Nonostante le pessime condizioni del rettangolo di gioco del centro sportivo Fidelis, però il match tra Nuova Andria e Udacia Cerignola, gara 1 dei quarti di finale del campionato regionale Juniorest, non ha tradito le attese della vigilia. E' finita con due gol per parte, con tante emozioni, in merito dell'atteggiamento mai rinunciatario delle contendenti, che si sono affrontate sempre a viso aperto. Reti tutte nella prima frazione, ospiti due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi raggiunti immediatamente dai padroni di casa. A segno, prima con un preciso colpo di testa di Galasso, poi con Pisicchio, che poco dopo ha colpito anche una clamorosa traversa direttamente su calcio di posizione. Meglio sul piano del gioco nel corso della ripressa la Nuova Andria, la squadra a cui probabilmente sta più stretto il 2-2 finale. Discorso qualificazione dunque, rimandato al match di ritorno, che si giocherà sabato pomeriggio, inizio previsto alle ore 16, al Monterisi di Cerignola. La formazione del presidente Vincenzo Carbotti, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio, è convinta di poter continuare l'avventura che porta alla conquista del titolo regionale. I ragazzi andriesi, infatti, sono già tornati al lavoro insieme all'allenatore Antonio Cannone, al collaboratore tecnico Vito Capogna, al preparatore atletico Luigi Liegi, al preparatore dei portieri Emanuele Di Venosa, proprio per provare a realizzare l'impresa e per accedere in semifinale. Di fronte, però, troveranno un Cerignola molto solido che ha la stessa voglia di inseguire il titolo pugliese.